eccoci qua buongiorno benvenuti questa è la segna stampa di oggi 12 marzo del 2020 direi che lunedì martesì mercoledì giovedì è il quarto giorno della mia quarantena e della mia positività alla corona virus qualche piccola informazione di servizio perché obiettivamente molti di voi me lo chiedono non riesco a rispondere a tutti quelli che mi scrivono sulla mia pagina sul sito internet nicolaporro.it e la situazione molto semplice la mattina mi sveglio bene sto benissimo come vedete e nel senso che ho 37 di febbre niente di che preoccuparsi faccio la mia colazione controllo il mio la mia saturazione che dovrebbe essere sempre intorno a 96 97 vediamo ora come stiamo messi adesso ve lo dico eh adesso guardate qua che sta per uscire cosa esce esce 97 poi come vedete purtroppo e poi scende velocemente ma no è rimasta 97 quindi meglio di così si muore però dopo passano un po di ore e la questione peggiora e quindi mi trovo nel pomeriggio sotto un treno sotto un tramo come ho detto oggi un'intervista al giornale e non riesco più molto bene a connettere però la mattina sono queste due tre ore di lucidità quindi me le tengo vicine e con voi apro questa pagina che voglio continuare a tenere aperta perché le cose devono andare avanti fino a quando probabilmente tutto gabriele fabio luciano che sono collegati con me in questo momento in diretta fino a quando ovviamente il virus come qualsiasi virus influenzale scomparirà e nel frattempo ovviamente bisogna leggere il giornale che faccio dalla mattina presto e oggi risorno alcune delle mie impressioni che vi dico subito sono impressioni mi sembra di essere un marziano forse per il mia quarantena forse perché questo virus mi ha dato la testa io penso di essere veramente un marziano un marziano un marziano perché io penso che è incredibile il fatto quello che noi stiamo facendo è incredibile perché vedete le notizie di oggi è che l'italia è blindata l'italia è chiusa sono stati chiusi i negozi sono stati chiusi barbieri sono stati chiusi gli esercizi commerciali professionisti c'è gente che vorrebbe chiudere le fabbriche e siamo tutti quanti d'accordo che bisogna chiudere tutto quanto tutti quanti d'accordo tranne il sottoscritto e vi spiego perché perché vorrei chiedere a tutti quelli che vogliono che sia tutto chiuso e anzi dicono quanto sono ridicoli spagnoli francesi e tedeschi che non stanno chiudendo tutto ecco io voglio chiedere a costoro che vogliono tutto chiuso ma secondo voi i respiratori per gli ospedali chi li produce secondo voi le febo per gli ospedali chi le produce secondo voi i tamponi per gli ospedali chi li produce secondo voi via sorin che oggi dice che avrà il test entro due ore lo dice il suo grande amministratore delegato rosa in alcune interviste chi le produce questi tamponi secondo voi che noi dobbiamo stare a casa e mangiare non dobbiamo assaltare i supermercati ma le robe da mangiare chi ce le dà e i contenitori per le robe da mangiare chi ce le dà e bloccare la produzione vuol dire bloccare uccidere la nostra civiltà morire allora quindi uno può dire sì blocchiamo però deve dare un tempo per i prossimi cinque giorni blocchiamo allora con una persona seria alla guida di questa emergenza dice guarda che se noi blocchiamo il paese per cinque giorni scarseggeranno fra tre giorni l'acqua fra quattro giorni l'olio fra cinque giorni le scatolette di tonno fra sei giorni le flebo cioè questo è un atteggiamento razionale invece il nostro atteggiamento meno drammatico chiudiamo tutto perché sennò il virus il problema come ha detto più volte la capua non è il la diffusione del virus è il rallentarlo il più possibile perché non vengano presi d'assalto gli ospedali che peraltro sono già presi d'assalto vabbè comunque questa roba che io vi sto dicendo ovviamente non è considerata tale dal 99 per cento dei commentatori il fatto quotidiano oggi che è diventato veramente siamo in perfetto minco il pop ad altronde poteri forti del coprifuoco no c'è qualche dubbio che ci sia un coprifuoco è un coprifuoco che in realtà a differenza del coprifuoco vale sempre dalla mattina fino alla sera quindi non un regime più che un regime è il giornale del regime è il fatto quotidiano che dice è l'ultimo sacrificio la UE elogia il governo come pure l'organizzazione mondiale della salute tutti elogiare questo governo e voi mi dovete spiegare per quale cavolo di motivo questo è l'unico paese in giro per il mondo ad avere il massimo numero di morti e di contagiati dopo la scena cioè continuano a denunciarci ma io vedo i numeri e come tu che non so elogi quello là che gioca a pallone per tutte le partite beh però sei stato bravo cazzo è stato bravo bravo siamo bravissimi e l'altro che se la canta e se la suona è il presidente consiglio straordinario che non gli pareva vero di riuscire a trovare l'avvocato del popolo essere l'avvocato dell'emergenza cosa fai il presidente consiglio fa una dichiarazione perché lui si presenta come salvatore della patria problema non ci crede neanche sua zia che lui è il salvatore della patria lui è il problema della patria ma comunque conte gli altri paesi ci guardano gli altri paesi non ci guardano sbagliato o giusto che sia basta leggere i giornali di tutti gli altri paesi il paese il mondo e il daily mail gli altri paesi non ci guardano soltanto conte soltanto wiston conte pensa che gli altri paesi ci guardino io non so se fanno bene o fanno male ma è sicuro che gli altri se ne fottono tant'è che noi li critichiamo diciamo ma non vi rendete conto che fra dieci giorni arriverà da voi cosa sicura ma il punto è che gli altri se ne fottono non ci stanno guardando se ne fottono di quello che noi stiamo facendo se continuano a fare gli assembramenti continuano a tenere aperte le cose chiudono qualche scuola insomma fanno finta che non ci sia il caso italiano l'altra cosa che dice conte ieri che ti direi il senso proprio di un regime del regime è l'italia sta dando prova di essere grande nazione ma che cazzo dice ma quale prova di grande nazione noi facciamo quello che dobbiamo fare ci fate la multa se usciamo e non usciamo ci prendiamo il coronavirus come lo so preso io e stiamo a casa ma che vuol dire che cos'è questa retorica della grande nazione possiamo dire che ci sono dei medici che si stanno comportando bene possiamo dire che ci sono degli infermieri che si stanno comportando bene ma non stiamo dicendo che l'italia sta dando prova di una grande non abbiamo vinto nessuna battaglia anzi la stiamo perdendo stanno morendo più persone da noi secondo le statistiche del resto del mondo ma che vuol dire la retorica in questo momento della grande nazione città nel frattempo deserte parlano tutti i giornali delle città deserte e soltanto mi sembra il giornale e libero prendono il spunto da queste città deserte con questa idea dell'italia grande nazione per cui gli ausiliari si mettono a fare le multe non a quelli che violano il coprifuoco che non è più coprifuoco mai copri giornata beh ma fanno le multe agli indisciplinati in auto adesso francamente è questo il momento di mettersi a fare i rigorosi sulle multe insomma io forse sono dell'idea sì che in questo questo sarà un periodo in cui non avremo i treni che vanno puntuali a quando c'era conte i treni arrivavano tutti puntuali treni semplicemente non vanno più avremo tutti quanti gli ausiliari che buttano completi complementi complementi al gestione ridicola anche di questa vicenda i tassi di mortalità vi invito a leggere danilo taino sempre il più serio di tutti perché sembrerebbe che in italia c'è un tasso di mortalità addirittura superiore rispetto a quello cinese ma il motivo è molto molto chiaro perché dice che c'è un paradosso della statistica per cui siccome in italia ci sono più persone anziane beh è inevitabile che le percentuali in italia appaiano più alte ma se le vai a dividere per classi di età le percentuali di mortalità di questo virus in italia sono molto inferiori rispetto a quelle cinese gramellini se la prende la giostra dei narcisi che vogliono fare le minoranze e invece dice lui bisogna credere una volta tanto alla maggioranza allora non ho capito ma non eravamo un popolo di populisti che stava sempre presso alle maggioranze alla vulgata invece no in questo caso va bene stare con il lidem sentire che poi la maggioranza della stabilità lui io penso che il punto fondamentale che io vi chiedo a tutti quanti voi farei il mio toc toc quando vi dicono i vostri vicini chiudiamo tutto va bene quando vi dicono non non facciamo violiamo tutte le libertà voi dovete soltanto fare una domanda mi dite per quanto tempo perché questa è la domanda fondamentale perché uno può fare un sacrificio e deve farlo ed è giusto che lo faccia ma bisogna dare un tempo perché se non beh il tempo è una dittatura è una forzatura è una morte è quello che vuole Greta un paese senza industria con una decrescita e senza inquinamento è quello che io non voglio cos'altro c'è il farmaco per la cura è fantastico perché poi ne girano di tutti i colori a me che sto male mi hanno detto qualsiasi cosa mi arrivano i whatsapp vi prego non mi date le cure vi prego i miei amici che mi ingolfano di informazioni e prenditi la curcuma prenditi quest'altro prenditi il cazzo mi hanno scritto 100 persone dicendomi prendere la vitamina c stronzata come dice il mio professore antiseri che sei il mio professore liberale che mi ha chiamato non riesco a richiamarlo a cui voglio bene il mio professore antinori che mi segue dallo spallanzani se c'è una cosa si vuoi prendere la vitamina c ma non è che ti risolve la vita quello che ti risolve la vita è questo che devi stare da 96 97 e cercare di tenere a base la febbre cosa che purtroppo la sera non riesco a fare il farmaco che pare stiano sperimentando è un farmaco che avevano già provato in cina e che qualche qualche volta è funzionato in cina e che è funzionato su due casi su sei a napoli ed è un antireumatico questo è quello che sui giornali oggi sta uscendo ma per il momento non più di questo è l'unico a diciamo a criticare un po il blocco dicendo che solo fatto a metà è il messaggero perché dice che le industrie sono fuori da questo blocco e io dico è per fortuna una mia amica ha scritto una mail lei c'è una società di costruzione dice sì a noi ci dicono di mantenere certe cose ma ragazzi ma voi vi rendete conto e nel frattempo se io non procedo con lo stato avanzamenti lavori c'è qualcuno che mi dice che non dovrò pagare una una penale c'è qualcuno che mi dirà che mi darà una mano insomma è tanto facile fare questo ragionamento stando a casa e non avendo non essendo un piccolo artigiano un piccolo barista un piccolo commerciante un grande imprenditore un medio imprenditore cioè quelli che poi alla fine le tasse le pagano e con quelle tasse noi stiamo cercando di tenere in piedi questo paese lasciamo perdere il deficit salirà qui al 3,3 per cento dice il sole 24 ore 25 miliardi arriveranno io vi dico che quello che noi faremo l'anno prossimo quando noi dovremo ovviamente pagare questo conto perché non è che ci li regalano i soldi questi soldi arriveranno giustamente dalla finanza pubblica beh insomma vedremo un po come il nostro conto e casalino si comporteranno nel frattempo ovviamente nessuno se ne occupa ma ci sono dieci bombe mandate stricchi bombe mandate da dagli anarchici secondo gli sospetti dei degli inquirenti in diverse famiglie alcune sono scoppiate alle poste altre sono scoppiate nelle mani di questi che le hanno ricevute insomma sta avvenendo una roba pazzesca di ordine pubblico oltre a quella delle carceri ovviamente di cui ovviamente visto il coronavirus non se ne parla terza questione di giornata la condanna di weinstein 23 anni difesa aveva chiesto cinque anni visto che a 68 anni ed è malato il giudice è stato implacabile 23 anni e il fratello bob di weinstein ha detto vai a farti fottere tutto il mondo manda a farsi fottere quello che tutto il mondo fino a ieri riconosceva come il grandissimo weinstein è disgustoso quello che ha fatto weinstein ma è disgustoso anche tutti quelli che gli stanno vicino e gli sono stati vicini per anni oggi fanzisti e stanno muti e dal mio piccolo punto di vista è anche disgustoso l'idea che questa pena esemplare esemplare non la pena esemplare sia diciamo rivolta a un solo uomo mentre tutto quel sistema l'ha coperto per anni se questo è quello che dicono i magistrati è avvenuto io direi che per il momento è tutto vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa spero questa sera francamente che non mi salga la febbre come è successo ieri perché quello mi mette di cattivo umore e mi butta davvero giù per il momento come sempre la mattina fino ai 10 e mezza 11 sto in grande forma e spero quindi di continuare a dare informazioni sui giornali e un abbraccio a tutti voi ciao